Non si arrende e continua a chiedere giustizia alla famiglia di Elenia Rapini, la 29enne che perse la vita in un incidente stradale nel novembre 2019. È stata infatti presentata una nuova memoria alla Corte d'Appello di Firenze che deve pronunciarsi sul ricorso del procuratore della Repubblica di Arezzo, Roberto Rossi. Il legale del padre del fratello, l'avvocato Francesco Valli, ha ripercorso così nel documento quanto emerso nelle perizie di parte eseguite durante il processo di primo grado che si era concluso con la soluzione con formula piena perché il fatto non costituisce reato dell'uomo che era la guida dell'auto che travolse quella sulla quale viaggiava la giovane. Il legale della famiglia, facendo riferimento a quanto scritto dal professor Tommaso Luciano Todisco dell'Università di Perugia, sostiene che la tragedia non si sarebbe verificata perché l'imputato era affetto dalla sindrome delle apnee ostruttive del sonno, ma perché era sotto l'effetto di un sonnifero. La difesa dell'uomo ha sempre sostenuto che il 49enne sia affetto dalla patologia che avrebbe causato il fatale colpo di sonno, ipotesi che era stata accolta anche dal GUP. La giovane Aretina perse la vita nel primo pomeriggio del 6 novembre 2019 mentre stava percorrendo la strada dei Ristradelle verso Arezzo. All'improvviso, in direzione opposta, un SUV guidato da un 49enne invase la sua carreggiata e la travolse e legna morì sul colpo. I familiari della giovane, oltre alle battaglie legali, stanno portando avanti anche iniziative per mantenere vivo il suo ricordo. Dopo l'evento di beneficenza della scorsa estate, adesso è stato organizzato per il prossimo 18 dicembre Music for Elenia Winter Edition al Circolo B1 di Arezzo, il ricavato sarà donato in beneficenza all'associazione animalista Scudo di Pan.